benvenute e benvenuti e benvenut questo è voci di donna generazione z questa è la prima intervista di una serie di appuntamenti organizzati dalla generazione z un progetto bellissimo lanciato dal circolo dei lettori di novara che anche per colui che guida e cura il famosissimo rinomatissimo festival voci di donna siamo molto emozionati per avere il nostro primo ospite che vi presenterò semplicemente dando il nome perché i ragazzi faranno la loro parte nel raccontarci chi è questa persona giusto due parole sul progetto noi abbiamo curato un progetto del percorso di alternanza scuola lavoro grazie appunto alla collaborazione del circolo dei lettori di novara dove abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con i ragazzi alla creazione di tanti piccoli progetti appunto culturali eventi culturali però passando da un piccolo percorso educativo dove ci siamo formati e ci siamo abbiamo fatto tante riflessioni insieme siamo cresciuti insieme lavorando sui concetti eventi un po un po un po caldi al momento di femminismo intersezionale inclusione diversità e tutto ciò che ci può girare intorno tutti i nostri eventi ruotano intorno al la nostra identità noi siamo siamo l'associazione muse siamo wonderful women e su facebook e su instagram potete seguire i prossimi eventi dal i am a wonderful woman wonderful women troverete tutti gli hashtag poi di seguito grazie ragazzi questo è il vostro palco benvenuto a matteo bussola matteo bussola è padre siccome è appunto padre di tre figlie è un uomo costruttivo perché è un fumettista uno scrittore e un conduttore radiofonico è un uomo multidimensionale perché ha vissuto in demone è passato dall'architettura al fumetto anche coraggioso dato che ha inseguito il suo sogno è un segnatore appunto perché ha seguito i suoi ideali per te noi chi siamo a noi chi siamo scusami e siete degli studenti suppongo liceali o qualcosa del genere e siete delle persone sicuramente curiose perché altrimenti non sareste qui siete un po agitati ma questo me lo avete detto e siete delle persone che io invidio molto sappiatelo perché come dire avete ancora davanti a voi un sacco di cose meravigliose da fare e alcune delle quali per esempio per quanto mi riguarda non mi sarà più possibile fare quindi ecco siete questo per me ho letto che eri un architetto volevo chiederti come sei passato da quel mondo ad essere un fumettista ma allora dunque intanto io sono ancora un architetto nel senso che non è che che uno smette di esserlo ho smesso di di praticare la professione questo sì e in realtà io ho sempre disegnato fin da piccolo e ho sempre avuto la passione per i fumetti e ad un certo punto sono stato assunto come architetto del comune quindi lavoravo nel settore pubblico e lavoravo nel settore pubblico anche con piena soddisfazione ci ho lavorato per otto anni progettando piazze biblioteche scuole rotonde un sacco di rotonde e fino a quando diciamo che non sono stato messo più in condizione di fare il mio lavoro perché ci sono stati dei pesanti tagli al bilancio pubblico del comune quindi non c'erano più soldi per fare niente cioè erano rimasti solamente i soldi per fare le cosiddette manutenzioni ordinarie e quindi siccome il mio lavoro era progettare le cose e sostanzialmente io passavo intere mattinate in ufficio a non fare praticamente niente a guardare un monitor o a scaldare una sedia come si dice e so che magari per qualcuno potrebbe apparire anche una condizione desiderabile io invece diventavo pazzo e siccome avevo questo sogno nel cassetto da sempre di fare il disegnatore di fumetti solo che continuavo a rimandare eh dandomi un sacco di alibi a un certo punto a 35 anni con un posto fisso in comune mi sono detto sai cosa c'è forse questa questa finestra che aspettavi da tutta la vita per provarci e per non darti più alternative forse proprio questa e quindi mi sono licenziato dal comune e ho fatto un book un portfoglio con tutti i miei disegni li ho inviati a tre quattro case editrici e dopo un mese un mese e mezzo più o meno lavoravo professionalmente e so che a raccontarla così fa un po' ridere cioè nel senso pare un po' facile ma è andata esattamente così ok quindi ci hai appunto parlato ci hai detto che che alla fine sei passato alla fine l'architettura e diciamo i fumetti sono comunque collegati si tratta comunque di altro e quindi hai seguito una passione cioè seguito una passione che avevi da molto tempo e più o meno quando è nata questa passione da piccolo o proprio già quando eri diventato adulto ah no le le passioni nascono quasi sempre da piccolo io io ho sempre disegnato e tutti i bambini in realtà da bambini disegnano tantissimo solo che poi crescendo ci insegnano a usare la mano sempre più per scrivere e sempre meno per disegnare e quindi quella roba lì del disegno magari tendiamo a metterla in secondo piano o a dimenticarla e semplicemente io non me ne sono dimenticato e l'ho portata avanti sempre durante tutto il corso della mia vita tra l'altro ecco una cosa che vi dico che mi sembra una cosa che possa avere per voi anche una insomma forse una certa utilità io posso dirvi che non sono uno di quei bambini che è nato col dono cioè io non ero particolarmente bravo a disegnare da piccolo nella mia classe c'erano almeno altri 6 7 bambini che erano molto più bravi di me e quindi ho imparato a disegnare disegnando tanto perché avevo questa 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 passione potrei dirvi che insomma come dire io amo molto in questo senso quella massima di thomas edison l'inventore della lampadina che sicuramente probabilmente conoscete quando dice che il talento è per l'uno per cento ispirazione e per il 99 per cento traspirazione cioè sudore fatica a riuscire a rimanere concentrati sulle cose che amiamo ecco io quel disegno ho fatto così cioè lo il disegno con me non è mai stato un amante riconoscente nel senso che non mi ha mai ricambiato con tutto l'amore che io avevo per lui e l'ho conquistato lavorando tanto quindi continuando a disegnare attraverso attraverso tutte le varie età della mia vita e poi come prima diceva bene qualcuno in realtà anche lo studio dell'architettura mi è servito perché io non è che disegno io faccio i fumetti e quindi per fare fare i fumetti è una maniera per raccontare storie e anche l'architettura è una maniera per raccontare storie quando io lavoravo in comune anche se dovevo progettare semplicemente una piazzetta molto piccola che cos'è che facevo andavo fuori mi facevo il rilievo di tutta l'area e poi per esempio mi studiavo come variava la luce del sole nell'arco della giornata e quindi come come la luce del sole alle 4 del pomeriggio avrebbe colpito quella bete di ombra sarebbe finita sopra quella panchina sopra la quale si sarebbe seduta la signora maria alle 4 e mezza una volta uscita da messa e questa è già una storia per esempio no quindi sono l'architettura il fumetto la scrittura anche la radio per me sono tutte maniere diverse per raccontare storie che è la cosa che mi interessa fare nella vita molto bene davvero sono colpita qualcosa quindi di tuo che non racconteresti mai nei libri qualche episodio che proprio non c'è meglio non raccontare appunto in un fumetto o anche in un romanzo in un libro in un racconto vabbè ce ne sono tantissimi di cose ma non è tanto che raccontare o non raccontare ognuno decide decide cosa vuole raccontare intanto va fatta una distinzione secondo me tra la scrittura cosiddetta autobiografica e la scrittura di fiction io ho praticato all'inizio quando ho cominciato a pubblicare i primi libri prevalentemente il primo tipo di scrittura c'è una scrittura autobiografica e per questo ci sono state alcune persone che mi hanno detto è ma tu nei libri racconti gli affari tuoi in realtà nemmeno lì io raccontavo gli affari miei cioè quello che raccontavo era l'uno per cento di un iceberg di vita e narrativo che per il 99 per cento stava nascosto sotto il pelo dell'acqua visibile solo a me quindi per dire che anche lì una persona sceglie cosa vuole raccontare ecco altro invece la scrittura di fiction nel senso che è la scrittura di invenzione che a volte paradossalmente può essere più utile per raccontare le proprie cose le proprie esperienze la propria visione del mondo rispetto alla scrittura autobiografica perché perché lo scrittore nella scrittura di fiction può parlare di se stesso nascosto dietro al travestimento dei personaggi e quindi in questo senso può essere più libero non a caso una volta qualcuno ha detto questa frase che devo dire io condivido molto che la letteratura è come dire è un modo per falsificare il reale per far emergere il vero cioè è una bugia attraverso la quale tu racconti la verità e scrivere in ultima analisi secondo me serve proprio a questo cioè può anche disegnare serve a questo a portare in superficie un elemento un elemento di verità solo così può essere utile a te che la fai e a chi a chi poi la leggerà allora adesso io ti prendo domande più sull'ambito familiare le tue figlie conoscono il tuo lavoro e ti leggono allora le mie figlie conoscono il mio lavoro fino a un certo punto nel senso che per loro sono più o meno come come mamma pig che lavora al computer cioè nel senso lo sanno bene sanno naturalmente scrivo libri in particolar modo lo sa lo sarà più grande che adesso ha 14 anni che ha già letto qualcosa e diciamo che per loro è sempre stata un po la normalità delle cose non lo vivono come un evento eccezionale tanto più che anche la mamma scrive anche la mamma è romanziera quindi per loro è l'orizzonte naturale delle cose posso dire che hanno hanno letto tutte e tre il mio primo libro notti in bianco baci a colazione che era una specie di diario della della mia paternità e dunque anche un pochino dei loro primi anni di vita ed è mi sono reso conto che cosa ho fatto scrivendo quel libro proprio sentendolo leggere a loro cioè quando erano più piccoline virginia che la figlia maggiore glielo leggeva tutte le sere prima di andare a dormire e le sentivo ridere ogni volta dietro la porta accostata perché ridevano di questi episodi di cui loro non avevano più memoria perché erano molto piccole quando io li ho scritti e io ho capito quello che ho fatto per l'appunto cioè non ho fatto nulla di speciale ma ho semplicemente fatto quello che fa ogni genitore quando scatta 300.000 fotografie ai suoi figli e alle sue figlie durante gli anni della crescita solo che io nel tentativo di fissare l'attimo no nel tentativo di fermare questa materia incandescente che ti che ti attraversa le mani tutti i giorni come sabbia fra le dita che che non è altro che la vita e solo che io quelle fotografie anziché farle con la macchina fotografica le ho scattate con le parole ma alla fine è esattamente la stessa cosa quindi le mie bambine hanno letto tutto il primo libro e gli altri invece non ne hanno ancora cioè sanno che li ho scritti ma non li hanno non li hanno letti che bello la tua popolarità ha influenzato le loro vite allora no perché per fortuna mi sono fermato in tempo nel senso che per essere estremamente franco allora il primo libro notti in bianco baci a colazione ha avuto ha avuto un grande successo insomma sicuramente molto oltre quelle che potevano essere le mie aspettative e è stato tradotto anche in molti paesi negli stati uniti in francia in spagna in germania insomma quindi ha girato un po dappertutto e c'è stata c'è stata anche una trasposizione cinematografica che deve ancora uscire il cinema uscirà quando le sale riapriranno e di solito quando tu fai una cosa che ha molto successo la cosa che più naturale fa che verrebbe più naturale da fare da un punto di vista editoriale soprattutto ma anche speculativo sarebbe proseguire sulla stessa linea e io anche in facebook ho pieno di persone che mi chiedono di scrivere un altro libro tipo notti in bianco 2 la vendetta in cui racconto delle bambine che crescono le problematiche dell'adolescenza eccetera eccetera però che cos'è che succede succede che quando io ho scritto quel primo libro io l'ho scritto non sapendo nemmeno bene quello che stavo facendo perché lo scrivevo in facebook il libro è nato da dei racconti che io scrivevo in facebook come diario personale e le mie bambine erano molto piccole vabbè è successa questa cosa d'accordo scrivere ora invece di loro di quello che fanno di quello che pensano significherebbe per l'appunto andare a interferire con le loro vite perché io ho genitori di loro compagne di classe che mi leggono ci sono delle loro compagne di classe che mi leggono su facebook o su instagram e quindi continuare a fare questa cosa ora non andrebbe più bene mi farebbe gioco da un punto di vista editoriale ma io non voglio non ho mai avuto intenzione di trasformare le mie figlie in un format per così dire e infatti ho abbandonato ormai del tutto la scrittura autobiografica e anche in facebook in realtà i post in cui parlo delle mie figlie sono sono quasi del tutto scomparsi grazie saresti pronta a un possibile coming out di una delle tue figlie sì assolutamente nel senso che allora non so bene cosa tu intende con coming out cioè si intende da un punto di vista come dire di orientamento sessuale piuttosto che di altra natura allora posto che non si è mai pronti secondo me perché facciamo tutti i brillanti fino a quando non ci capita però diciamo che sia io che paola abbiamo sempre cercato di educare le nostre figlie alla più totale indipendenza e la più totale libertà cioè a noi non interessa che loro diventino ciò che noi speriamo per loro o ciò che noi immaginiamo per loro vedete la parola come dire crescere eh ha a che fare soprattutto con il tradire le aspettative degli altri per questo è un processo spesso doloroso eh con il tradire soprattutto le aspettative di tuoi genitori eh che magari ti immaginano in un certo modo avrebbero voluto o sognato per te una carriera piuttosto che un'altra e in realtà tradire guardate ve lo dico è una bellissima parola perché tradire ha la stessa radice semantica della parola tradurre ora quando noi traduciamo qualcosa quando traduciamo un testo che cos'è che facciamo noi rendiamo disponibile un significato dunque una verità in senso lato da una lingua un'altra e quindi la rendiamo disponibile per tutti eh quando si si tradisce se pensiamo al linguaggio figurato come non so i suoi occhi lo hanno tradito o le sue parole lo hanno tradito che cos'è che stiamo dicendo in verità stiamo dicendo che i suoi occhi o le sue parole ci hanno detto la verità e quindi tradire in questo senso ha la valenza positiva di dire la verità su di noi quando tradiamo le aspettative degli altri vuol dire che non siamo diventati quello che loro si aspettavano da noi ma siamo diventati quello che siamo quello che ci piace e quindi in questo senso io alle mie figlie auguro questa cosa qui e di essere un padre sufficientemente intelligente da riuscire a mettere in pratica le cose che vi ho appena detto io vorrei chiederti che cos'è per te il femminismo il femminismo sì sì allora secondo me è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti e soprattutto ai maschi in realtà vedete spesso il femminismo viene interpretato come il contrario del maschilismo e invece non è così perché il maschilismo è una deriva deteriore cioè il maschilismo mette in campo come dire la 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 il suprematismo diciamo così patriarcale o sessista di un genere nei confronti di un altro quindi è un esercizio di coercizione è un esercizio è una forma di sopruso ok invece il femminismo non dice che le femmine devono essere più importanti degli uomini o che devono guadagnare di più degli uomini o che devono avere maggiori diritti degli uomini ma semplicemente dice che tutti dobbiamo avere gli stessi diritti e le stesse opportunità ora perché dico che soprattutto gli uomini dovrebbero essere femministi e che le cose cambieranno davvero solo quando gli uomini si faranno carico di questa cosa non lasciando le donne da sole in questa battaglia perché noi uomini noi maschi nasciamo in un privilegio solo che non ce ne rendiamo conto perché ci nasciamo dentro il privilegio è fatto dal fatto che per esempio non so se noi andiamo a fare un colloquio di lavoro a noi non ce lo chiedono mica se abbiamo intenzione di avere figli o se ne abbiamo perché non viene considerata una questione rilevante perché si dà per scontato che se in una famiglia ci saranno figli saranno le donne a occuparsene infatti se una donna o una ragazza va a fare un colloquio di lavoro se non è la seconda la terza domanda che le faranno è appunto se avrà intenzione di avere figli gli uomini nascono in un privilegio perché mediamente gli uomini in tutto il mondo a parità di competenze guadagnano il 20 per cento in più delle donne in qualunque lavoro gli uomini nascono in un privilegio perché in genere sono agevolati in tutta una serie di manifestazioni in tutta una serie di attività ma che va delle attività più semplici ad esempio poter uscire da soli la sera senza correre il rischio di essere aggrediti o stuprati per esempio al non essere giudicati sulla base dell'abbigliamento cosa che invece alle donne e alle ragazze succede di continuo insomma e potrei proseguire questo elenco molto a lungo quindi in realtà il femminismo è semplicemente una come dire una una forma mentis che dovremmo riuscire a una specie di abitus ecco che tutti quanti dovremmo indossare per riuscire a rendere il mondo un posto migliore per tutti ma tutti definiresti un femminista non lo so sarebbe troppo facile definirmi così perché vorrebbe dire che io sono un uomo maschio particolarmente illuminato rispetto a quelli di cui stavo parlando e non credo di esserlo credo anch'io di 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 vivere immerso mio malgrado in questo in questa specie di brodo culturale patriarcale maschilista credo di essere stato educato a tutta una serie di privilegi anch'io e credo di averli introiettati mio malgrado per cui sono semplicemente un uomo che cerca di fare del suo meglio che cerca di riconoscere queste cose quando le vede ma sicuramente sicuramente non ci riesco sempre ecco in questo senso però posso dire che la mia esperienza cioè che la vita mi ha fatto un bellissimo regalo quello di rendermi padre di tre figlie perché secondo me per riuscire a disinnescare tutte queste meccaniche di cui vi ho parlato avere modo di vedere di vivere accanto al femminile di vedere come si formano anche le mentalità delle bambine che poi diventano ragazze che diventano giovani donne vedere tra l'altro anche come fin da piccole no si forma il rapporto anche sentimentale con il maschile accorgersi di quanto a volte noi anche fin da piccoli siamo degli degli straordinari piccoli cialtroni secondo me aiuta un pochino a rispecchiarsi nei loro occhi a fare autocritica anche su di sé quindi io sono molto grato diciamo alla vita di avermi fatto questo questo regalo dopodiché per contro vi dico anche che vivere con quattro donne perché ci metto dentro anche la mamma non è sempre facilissimo ecco tanto per dirvene una io ormai ho imparato a fare pipì praticamente seduto in casa perché con quattro donne faccio prima così rispetto ad alza la tavoletta passa la tavoletta eccetera eccetera matteo hai detto delle cose secondo me molto profonde su cui riflettere però adesso per cambiare un po il ritmo dell'intervista ti farò una serie di domande a cui dovrai rispondere con la prima cosa che ti viene in mente dando se poi vuoi anche una spiegazione ovviamente qual è la parola più brutta che ti possano dire ma in linea con quello che stavamo dicendo come dire prevaricatore ecco non mi piacerebbe essere considerato un prevaricatore non mi piacerebbe essere considerato un prepotente io cerco sempre anche in facebook dove è molto facile lasciarsi andare alle volte alla rabbia no anche di fronte a certi commenti oggettivamente disgustosi io cerco sempre di parlare con tutti e di mantenere i toni bassi e di perché credo che alla fine se tu cerchi la comunicazione con una persona se riesci a mantenere la giusta misura il giusto tono alla fine ci riesci quasi sempre quasi ecco quindi diciamo che mi piacerebbe che che si pensasse di me che sono una persona che fa del suo meglio per cercare di dare incontro agli altri ecco e quindi non mi piacerebbe che si pensasse il contrario di questo va bene e quale libro secondo te tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita sono troppi sono tantissimi non 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 guarda posso fare come posso cavarmela diciamo elegantemente citando alcuni libri fondamentali per me allora uno è l'arco e la lira di Octavio Paz che è un poeta però questo libro di cui vi parlo è un saggio e a me è stato utilissimo soprattutto perché mi ha spiegato la differenza tra pensiero prosastico e pensiero poetico e quindi la differenza è fare una lingua che dice e una lingua che è un altro libro meraviglioso che che spiega forse meglio di qualunque altro che cosa che cosa si parli quando si parli di paterità è la strada di Cormac McCarthy è un libro a cui io sono visceralmente legato perché spiega meglio di qualunque altro il mio concetto di amore è diario di un millennio che fugge di Marco Lodoli e e qui mi fermo perché se potrei proseguire le ore ok invece quale film o serie tv consiglieresti anche qui sono sono troppi allora di allora guarda di film vi cito un film che probabilmente probabilmente non è un capolavoro della cinematografia mondiale ma un film che per me ha significato molto e che ogni volta che lo passano in tv anche se l'ho visto ormai centinaia di volte non riesco a fare a meno di guardarlo ed è Will Hunting e Genio Ribelle con Matt Damon, Ben Affleck e Robin Williams è un film che io trovo commovente per quanta verità esprime sotto ogni aspetto e soprattutto mi fa impressione tutte le volte che penso che quella sceneggiatura meravigliosa è stata scritta da Matt Damon e Ben Affleck che al tempo erano poco più di due ragazzi e quindi è una cosa che mi per la quale provo anche una una sanissima invidia e mi restituisce anche molta fiducia nel come dire nell'umanità nel senso che se da giovani da così giovani si può riuscire a scrivere una cosa così insomma vuol dire che abbiamo davvero delle grosse potenzialità dentro di noi serie tv io sono un grande fan del trono di spade trovo una serie imperdibile anzi direi indispensabile breaking bad e poi io di mio ma perché sono scemo e sono nostalgico sono appassionatissimo a certe serie di cui voi probabilmente non avrete nemmeno sentito parlare ve ne dico una su tutte saranno famosi che originariamente non era un programma di Maria De Filippi ma era la serie televisiva tratta dal film fame e quindi ambientata in questa scuola di musica di recitazione eccetera raccontava la gesta di questi ragazzi che tutti i giorni imparavano come fare per come dire diventare protagonisti nel mondo dello spettacolo della musica perfetto adesso voglio proprio la sincerità qual è il tuo superpotere allora il mio superpotere che non so se sia tanto un superpotere è quello di riuscire ad essere amico di tutti nel senso che come vi dicevo prima io non ho alcuna difficoltà a riuscire a parlare ad essere del tutto a mio agio con persone che la pensano del tutto come me o con persone che la pensano esattamente al contrario di me e questa cosa finché si diciamo si verifica per esempio in facebook o sui social è un problema relativo ma nella vita vera mi è capitato spesso di avere a che fare con persone che magari io avevo conosciuto separatamente e che magari avevano erano convinte entrambe di essere faccio per dire i miei migliori amici e quando ci siamo trovati tutti e tre insieme gli altri due non si potevano vedere perché rappresentavano come dire le polarità opposte della della e quindi questo diciamo che è un superpotere nel senso che ti permette forse di sviluppare quella che io ritengo una qualità molto importante cioè che è l'empatia nei confronti degli altri anzi per me le discussioni più interessanti sono proprio con le persone che sono molto diverse da me io imparo quando mi confronto con una persona che è molto diversa da me non che la pensa come me però per contro appunto è una cosa che vale solo per me quando mi trovo a dover mettere insieme persone che la mette la pensano in maniera molto diversa io riesco a parlare con tutti e due ma loro spesso non ci riescono fra di loro e questa è una cosa che mi dispiace molto ok forse alessandro vorrebbe dirti qualcosa adesso io vorrei dire che secondo me il superpotere più grande è proprio essere il genitore allora sì dipende dalla definizione di superpotere diciamo che il superpotere di genitore somiglia a quello di spider-man cioè come essere morso da un ragno radioattivo nel senso che non è una cosa con la quale nasci e come per esempio è accaduto a superman ma è una cosa che ti succede e chiaramente con le cose che ti succede esattamente come avviene nella vita di spider-man devi decidere cosa farne e spider-man non diventa subito un supereroe ha bisogno della morte di suo zio per prendere coscienza che da grandi poteri derivano grandi responsabilità e diventare genitore ugualmente non è una cosa di cui ti accorgi subito non basta tenere un bambino o una bambina in braccio soprattutto nella vita degli uomini che non hanno portato i figli o le figlie dentro di sé per nove mesi che comunque è già una maniera di stabilire un legame anche corporale anche fisico e di essere già preparati i figli sono questa roba che irrompe nella tua vita questi alieni che arrivano e ribaltano completamente tutti gli equilibri anche di coppia e sta a te capire se vuoi trasformare quella roba lì in una roba che ti toglie qualcosa alla tua vita i tuoi spazi ai tuoi tempi o se vuoi farla diventare qualcosa che aggiunge e quindi in sostanza sta a te capire se la paternità vuoi viverla come una forma di opportunità o la vuoi vivere in maniera in maniera differente insomma secondo me questo poi dice molto anche del tipo di persona che sei o del tipo di persona che scegli di diventare quindi per me tu hai ragione nella misura in cui se tu accogli la paternità come qualcosa che arricchisce la tua vita è il superpotere più grande anche la maternità lo è diciamo che non tutti i genitori magari la vivono la vivono la vivono così secondo me ecco insomma non ci sono solo buoni genitori ma ci sono solo ci sono anche genitori meno buoni ahimè per quanto io creda che tutti facciano del loro meglio io ammiro molto questa tua risposta perché anche il sogno di mio padre era quello di avere tre figli e femmine sono figlia unica però sarebbe molto d'accordo con le tue parole quindi volevo chiederti quale invece è il superpotere che non hai ma che vorresti avere la ricchezza è un superpotere mi piace avere un sacco di soldi perché così perché ho tre figlie e ho tre università da sistemare tre automobili da comprare ho un mutuo 35 annale per comprare questa casa dove abito e infatti come dire io sono molto grato alla scrittura perché comunque è qualcosa che nella mia ha cambiato anche la qualità economica della mia vita io non sono affatto ricco però come dire diciamo che adesso posso mantenermi bene mentre prima quando facevo solo i fumetti io ve lo dico se volete fare i fumetti fatelo perché è una passione bellissima eccetera ma se volete diventare ricchi non fate i fumetti perché proprio scegliete qualche altra strada ecco va beh questo è un po è un po a cavallo tra la verità e la battuta però insomma i soldi nella vita nella vita sicuramente sono una cosa che serve soprattutto quando hai una famiglia certo e adesso sempre tornando al tuo lavoro invece c'è un personaggio di fantasia a cui ti ispiri allora dunque di fantasia guarda potrei dirti ti dico dragon ball non so se lo conoscete che è un personaggio dei fumetti dei manga perché Goku che è il protagonista ha questa caratteristica che dopo ogni come dire dopo ogni battaglia che conduce dopo ogni scontro dopo ogni avventura diventa più forte e mi piacerebbe pensare di poter essere così cioè io credo molto poco nella cultura della vittoria nella cultura del vincente e del perdente io credo che in realtà come come ha detto uno dei più grandi eh filosofi di sempre che sicuramente voi conoscerete che è il maestro Yoda di star wars ecco eh Yoda eh nell'ultimo star wars ha detto a Luke skywalker che era disperato perché stava bruciando la la capanna degli igeri con tutti i manoscritti dentro eccetera eccetera e Luke era disperato e gli ha detto ricordati Luke il fallimento è il tuo migliore maestro io credo che che le sconfitte cosiddette i fallimenti siano ciò che ci rende più forti perché è proprio dalle dalle nostre cadute che noi impariamo e in questo senso e qui mi ricollego in parte anche alla domanda che mi ha fatto prima Alessandro credo che la parte più difficile dell'essere genitori sia riuscire a capire che il nostro ruolo non è quello di proteggervi ma è anche quello di lasciarvi cadere di lasciarvi compiere i vostri errori perché è solo in questo modo che si come dire che si diventa davvero se stessi e che si impara a rialzarsi molto spesso la vita ci mette davanti tutta una serie di ostacoli tutta una serie di difficoltà però la cosa che ho imparato a quasi 50 anni è questa che spesso quegli ostacoli o quelle difficoltà te le mette davanti non per farti un dispetto ma per darti l'opportunità di dimostrare quanto tieni davvero a una cosa e quindi in questo senso io credo che appunto le sconfitte i fallimenti gli ostacoli siano le cose che ci servono più di tutti per per crescere in tutti in tutti i campi le cose più utili che possano succederci forse anche questa questa esperienza così devastante della pandemia che stiamo vivendo tutti insieme fra qualche anno scopriremo che pur essendo stata una tragedia che ha causato tantissimi morti è stata anche un'opportunità che ci avrà permesso di capire delle cose su di noi sullo stile di vita che conducevamo o anche semplicemente su quanto siamo riusciti a dare per scontate tutta una serie di cose come abbracciarci incontrarci a concerti no e che erano lì e a cui non davamo sufficiente valore adesso che non le abbiamo più ci rendiamo conto davvero fortunati che eravamo io vorrei dire una cosa sono veramente emozionato dalla tua risposta sul personaggio a cui ti ispiri Dragon Ball cioè il cartone in generale ma soprattutto Goku è stato la colonna portante della mia vita io mi sono sempre ispirato a lui infatti era anche uscito un discorso in questo progetto appunto parlando della del personaggio a cui noi ci siamo ispirati e io ho nominato Goku quindi sono veramente contento bene e senti ma cosa vorresti dire al te stesso del passato e al te stesso del futuro se potessi allora sì guarda al me stesso del passato vorrei dire del passato quanto passato cioè il tipo della vostra età sì sì allora gli direi con tantissimo affetto gli direi sei un coglione e però adesso tu non lo puoi sapere ma va va benissimo così c'è c'è una fase della vita in cui essere coglioni va benissimo anzi è proprio è proprio sano essere coglioni in e quindi perché questo lo perché lo dico perché esattamente come come forse come a voi delle volte probabilmente come a tutti ci sono state molte molti momenti della mia vita in cui mi sono sentito sbagliato o in cui mi ci hanno fatto sentire voi immaginatevi solo vi dicevo prima della mia passione per il disegno un bambino che 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 al quale per esempio il disegno dei fumetti la sua passione per i fumetti è sempre stata fatta vivere sostanzialmente con una perdita di tempo quando ero piccolo mi dicevano cosa perdi tempo a stare chiuso in casa a disegnare quelle vaccate di no vai a fuori a giocare a pallone così prendi un po di aria e via discorrendo potrei citarne moltissime di queste cose qua e quindi secondo me tutti andiamo bene come siamo non so non so se riesco a farmi capire cioè noi abbiamo un grandissimo vantaggio su tutti gli altri esseri umani che abitano il pianeta e cioè che solo noi siamo noi solo noi siamo siamo fatti come noi no siamo fatti così non esiste un altro uguale a noi e quindi di questa cosa dobbiamo sempre essere estremamente orgogliosi sia nelle cose che facciamo sia quando andiamo a provarci con una ragazza o con un ragazzo in tutte in tutte davvero le aspetti esistenziali della della e al stesso del futuro invece direi hai visto tipo non ci credevi di arrivare fin qua e invece o almeno spero è ok allora adesso possiamo passare a qualcosa sicuramente di meno personale quindi volevo chiederti di fare l'emoji emotico che usi di più sul telefono allora dipende nel senso che cosa vuol dire fare cioè ve lo mimo sì sì esatto sì allora con diciamo che il cuore c'è un cuore un po marcio questo non riesco a farlo bene vabbè il cuore che è quello che chiuso di più e invece quando mi mando i messaggini con le mie figlie temo di non poterlo riprodurre comunque insomma è il simboletto della cacca sapete la cacchina che ride quella ecco perché insomma ho delle bambine due sono ancora piccole e quando ci mandiamo i messaggi fra di noi le cacchine si sprecano una volta mi sono anche sbagliato perché sapete che il telefono tiene in memoria gli ultimi emoji che hai che hai adoperato e una volta un editor letterario ho scritto un messaggio e per errore alla fine invece della faccina che ride gli ho messo una cacca e quindi ho fatto una figura terrificante infatti poi mi ha telefonato e mi ha detto scusa ma guarda perché mi sono sbagliato è stata mia figlia e invece ero stato io proprio parlando di suggerimenti ti chiedo di prendere il telefono aprire whatsapp e scrivere in questo momento vorrei e completare la frase con il suggerimento centrale e poi ovviamente comunicarcela a chi lo devo scrivere a chiunque non penso che poi tu lo invierai ok allora devo scrivere mi hai detto ripeti in questo momento vorrei in questo momento in questo momento vorrei ok e poi completare la frase con il suggerimento centrale sulla tastiera sulla tastiera sopra la tastiera c'è un suggerimento di scrittura il suggerimento delle parole che compaiono esatto esatto essere sì in questo momento vorrei essere poi cosa compare dopo un poi abbraccio poi vorrei essere un abbraccio grande sì non ha grande senso però ok va bene vado avanti o mi fermo no no secondo me secondo me a un certo punto viene fuori una cacca secondo me io vi lo dico mi fermo abbraccio grande ok posso lo mando sì sì io direi di sì lo mando a paola così mi risponderà ecco fatto va bene adesso invece ti chiedo qual è il talento più inutile che hai più inutile sì allora dunque so che può apparire bizzarro ma il talento più più inutile che ho nella mia famiglia è quello della cucina nel senso che a casa nostra cucino solo io e io amo per esempio moltissimo cucinare il pesce ma le miei bambine non lo amano e non e nemmeno paola lo ama e in linea di massima come tutti i bambini più o meno mangiano sempre le stesse cose quindi io vorrei cimentarmi in cucine etniche e padellate cinesi i polli al curry risotti con gli asparagi cose le cose più strane e invece va a finire che cucino quasi sempre le solite tre quattro cose e quindi nella mia famiglia questo è un superpotere abbastanza inutile e c'è un tratto della tua personalità che ritieni deplorevole sì 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 ce ne sono molti ma deplorevole sai diciamo che io sono una persona piena di contraddizioni e come come quasi tutti noi penso però quando hai come dire un'immagine pubblica anche tuo malgrado perché poi succede che quando sei molto presente sui social quando quando scrivi libri quando magari ti invitano anche alle trasmissioni televisive o a incontri come questo le persone si fanno tuo malgrado un'idea di te e quindi magari tu vieni percepito come una persona come dire assennata con una persona dice cose sensate qualcuno potrà pensare anche che io sia una persona particolarmente saggia e in realtà sono una persona piena di paure esattamente come tutti sono una sono una persona per esempio io ho dovuto imparare a parlare con le persone una volta ero estremamente timido e non sarei mai riuscito a parlare in pubblico ci sono riuscito a forza di farlo e tant'è che ci sono anche alcune persone che pensano oggi che sia una persona particolarmente solare estroversa spiritosa eccetera e in realtà io sono un nerd introverso che vorrebbe vivere da solo in una grotta cioè in realtà insomma quindi quindi faccio quello che c'è da fare perché in realtà parlare con le persone mi piace nella misura in cui è lo strumento migliore secondo me che abbiamo tutti per condividere esperienze per arricchirci però se dovessi assecondare la mia indole natura più profonda probabilmente vivrei solitario sulla cima della montagna o in un laghetto di okkaido a pescare trote arcobaleno come sanpei ultima domanda a noi come generazione z cosa consiglieresti ah guarda questo è facile nel senso che io vi consiglierei di fare delle vostre vite quello che volete per due ragioni la prima è che come dire tutte quelle volte che vi diranno che una cosa che state facendo che se è una cosa che amate fare che sia giocare a calcio danzare disegnare scrivere una fan fiction di duemila pagine eh cucinare piantare un orto qualunque cosa che vi chiamiate fare ecco eh ricordatevi sempre che tutte quelle volte che magari qualcuno potrà dirvi che quella cosa lì è una perdita di tempo ecco in realtà posso dirvi che tutto il tempo perso a fare qualcosa che amate in realtà non è mai tempo perso mai tempo guadagnato che non frutterà immediatamente probabilmente non frutterà subito però la vita poi fa fa giri stranissimi e trova sempre la maniera di offrirti la sua ricompensa se tu hai hai approcciato una cosa una passione con un'attitudine un'attitudine onesta e con sufficiente determinazione e l'altra cosa è che io un po vi invidio perché vedete quando adesso faccio solo per un attimo quel uno di quei discorsi terrificanti di ai miei tempi ma ai miei tempi quando c'era da scegliere per esempio una scuola un'università un orientamento di studi si tendeva ancora a privilegiare eh quella scuola o quell'orientamento di studi eh facendo come considerazioni non anche il fatto cioè valutando il fatto se questa cosa poi avrebbe potuto portarti uno sbocco professionale o meno quindi c'erano per esempio alcune università che erano considerate migliori di altre perché dopo avresti trovato subito lavoro quindi per esempio una laurea in ingegneria o in architettura veniva considerata sul mercato del lavoro più spendibile rispetto ad una laurea in lettere o in filosofia ecco oggi per fortuna eh viviamo in un mondo in cui tutte le certezze sono saltate tutte completamente e in cui questa cosa qua non è più vera o non è più così tanto vera e quindi secondo me mai come oggi mai come in questo momento storico ha senso investire a tutta nelle proprie passioni perché eh è solo la passione che potrà fare davvero la differenza e e se non la farà economicamente la farà quantomeno su quella che sarà la qualità della vostra vita perché passerete la vita a fare una cosa che amate e siccome il nostro lavoro è come dire è è è è è il tempo su cui è è è è è uno degli spazi che occupa più tempo nelle nostre vite ecco riuscire ad avere la fortuna di fare un lavoro e svolgere un'attività che ci appassiona secondo me è una delle fortune più grandi che possano capitare nella vita grazie mille per le bellissime parole cioè mi sento di ringraziarla perché ha detto delle bellissime cose veramente ringraziarla chi ringraziarla ho dato ringraziarti ah ok no graziarti va bene gra no sono sono contento no grazie a voi grazie a voi ma eh devo dire che molto sinceramente lo dico io quasi da fan come se fossi ai concerti dei no delle dei dei tuoi artisti preferiti starei anche qui a parlare altre due ore tra l'altro è meraviglioso sentire i nostri ragazzi farti le domande Matteo ma sono riusciti in qualche modo a spiazzarti o proprio niente proprio ti ha cosa ci dici allora sono sincero eh sì un paio di domande sì non me non me le aspettavo non me le aspettavo affatto e ho dovuto e ho dovuto pensarci bene ma il fatto è che come vi ho detto io vivo con quattro donne e quindi sono abituato a essere spiazzato ogni giorno della mia vita in qualunque momento eh anche perché eh una cosa adesso la butto un po' in vacca alla fine così eh come dire alleggeriamo un po' il tono una delle cose che io adoro nei rapporti eh tra il maschile e il femminile è proprio questa cosa che eh spesso abbiamo delle maniere di amarci che l'altro non riconosce o non riconosce subito ci amiamo in lingue differenti e a volte eh per esempio a me capita spessissimo con Paola eh non so di essere convinto di avere fatto una cosa eh particolare eccetera e lei magari non se ne accorge e magari ci sono altri giorni eh che non che non faccio assolutamente niente e lei mi dice oh guarda meno male se tu fossi sempre così e io non so cosa ho fatto per meritarmi e secondo me quella cosa lì è una cosa che ha una sua bellezza secondo me perché eh guardate vi cito faccio l'unica citazione colta della della giornata tra l'altro sbagliandola perché non ricordo mai se è di Garcia Marquez o di Paolo Quello spero del primo quando diceva che se una persona non ti ama nel modo in cui tu vorresti non è detto che non ti ami con tutta se stessa ecco questa secondo me è una lezione che dovremmo dovremmo ricordare molto bene perché spesso noi pretendiamo di essere amati nella maniera che vogliamo noi no eh invece le persone ci amano nella maniera che conoscono loro e quindi per questo è importante prestare attenzione gli uni agli altri secondo me ecco perché ne vale la pena e questa ehm era una chiusa direi quasi teatrale cioè è finita in poesia no cioè fantastica eh vabbè comunque innanzitutto grazie grazie tantissime grazie tantissime per esserti prestato a questo nostro format così inventato insieme ai ragazzi eh noi ci siamo divertiti moltissimo secondo me anche i ragazzi ti dico che io non li ho mai visti così ti devo dire la verità hanno hanno dimostrato l'intraprendenza dei sorrisoni che a noi non hanno mai fatto quindi abbiamo anche un non so che di gelosia verso questa cosa e a parte questo eh giusto un un una chiusa per per tutti quanti poi torno da voi eh questa è soltanto una delle interviste spiazzanti che generazione z sta organizzando per voci di donna quindi trovate tutte le altre eh interviste spiazzanti nei canali di wonderful women wonderful women è scritto con due l non è un errore è voluto vi aspettiamo sui canali facebook e instagram hashtag generazione z è uscito il libro di matteo bussola che si chiama viola e il blu la libertà di essere i colori che vuoi che è edito da salani questa è una storia che è stata fatta per crescere i bambini e le bambine liberi dalle etichette contro gli stereotipi di genere quindi matteo era esattamente la persona perfetta per noi in questo momento che abbiamo trattato insieme alla generazione z queste tematiche l'altra cosa meravigliosa è che matteo stesso che le ha illustrate quindi si riesce a sentire la sua voce tramite le parole e tramite i disegni lo trovate in libreria e vi aspettiamo alla prossima intervista grazie a tutti 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 grazie a tutti